Sport, cultura, territorio e famiglia sono questi gli elementi che caratterizzeranno il 21esimo campionato nazionale di corsa campestre che avrà luogo dal 6 all'8 aprile a Mel e Belluno. Una presenza molto ampia di partecipanti, oltre 2.000 le nostre presenze, 10 regioni rappresentate, 150 società sportive e una realtà molto significativa che si confronta in una realtà quella bellunese che per il centro sportivo italiano ha un valore rilevante perché dopo la presenza 5 anni fa dell'atletica leggera torniamo con un altro evento nazionale di corsa che è una delle principali attività. Un evento che vede protagonisti allo stesso tempo giovani ed adulti. Le categorie sono rappresentate, sono ben 19 le categorie della nostra attività che vanno dai bambini di 9-10 anni fino ai veterani di 80 anni e oltre, quindi una presenza molto ampia, una gamma molto ampia, però voglio sottolineare un aspetto, la nostra attenzione è in particolare nei confronti dei più piccoli, dei più giovani e mi piace sottolineare che in questa manifestazione la presenza giovanile oltre al di sotto dei 16 anni risulta quasi il 70%. Nel capoluogo bellunese verrà realizzato lo staffettone delle regioni. Percorrono le strade più significative, il centro storico di Belluno, centro storico che è riconosciuto a livello nazionale come uno dei più importanti e questo ci permette di far vivere ai nostri ragazzi un momento anche di conoscenza del territorio. Un'occasione preziosa per la valorizzazione turistica del territorio. Il forte è collegato alla cultura e alla promozione del nostro territorio, molto ricco e molto interessante non solo per le montagne ma anche per i centri storici. Fondamentale è la macchina del volontariato che supporterà la buona riuscita dell'iniziativa. I volontari sono un aspetto fondamentale e necessario per qualsiasi attività che noi come comitato organizziamo e in particolare in questo caso siamo aiutati dalla Piave 2000 per Mel e dalla Castionese per lo staffettone delle regioni qui a Belluno. Ma anche tutte le altre società bellunesi collaborano e coordinate dalla Castionese e dalla Piave aiutano per la perfetta riuscita di questa manifestazione. Grazie. Grazie a tutti.